Se cercate nel dizionario inglese e italiano la parola hacker, probabilmente troverete hacker, cioè non lo traducono per niente, oppure troverete qualcosa tipo pirata informatico. Però, vabbè, a parte la figura romantica del pirata, gli hacker fanno anche attivismo, che si chiama act-tivismo. Ed è proprio di questo che voglio parlare nei tre minuti grezzi di oggi, perché ricorre il ventesimo anniversario dalla pubblicazione del manifesto hacker, un volume che all'epoca veniva conosciuto da pochi, già internet ce n'era poca in giro, c'erano pochi siti, però le persone che studiavano, che comunque bazzicavano il mondo internet, conoscevano il manifesto hacker, scritto da McKenzie Work. Cos'è questo libricino? Nel suo contenuto è abbastanza semplice, le idee fondamentali sono abbastanza alla portata di tutti, cioè dice che oggi nel mondo, parliamo di vent'anni fa, ma non fa ancora una piega a tutti questi concetti, ci sono due aspetti importanti, quello delle idee astrate virtuali e quello delle cose invece pratiche. Il fatto è che le cose virtuali, come l'informazione, ma anche la poesia, la matematica, influenzano cose molto concrete che sono i paesi, gli eserciti, le aziende, le comunità, quindi come il virtuale ha un impatto molto reale sul mondo che ci circonda. L'obiettivo del libro è quello di spiegarci chi sono le persone che stanno creando questo nuovo mondo e come vengono trasformati i dati in idee che poi ci portano a stare da un lato o dall'altro. Un manifesto degli hacker parla anche di un altro problema, di come alcune aziende, soprattutto quelle farmaceutiche, vogliono proteggere le loro idee e non vogliono invece la condivisione. Si pensi un po' ai brevetti per i vari vaccini, per le medicine che vengono prodotte e vendute a prezzi altissimi. Quindi si parla anche di proprietà intellettuale. Ci sono due fazioni opposte. Le persone che vogliono usare le informazioni e vogliono che le informazioni siano libere e quelle invece che vogliono ottenere tutto per sé e che non vogliono condividere. Diciamo che è un libro che ha 20 anni ma non li dimostra affatto perché, se andiamo a leggere, vediamo che gli stessi problemi ci ritroviamo ancora davanti. Vi metto un link perché è molto interessante e sicuramente in questi giorni se ne parlerà appunto perché sono 20 anni da che McKenzie Work l'ha pubblicato.